Appuntamento il 12 marzo, cosa andrà in scena, quali saranno le location e poi magari come nasce l'iniziativa? D'Adan è l'evento per celebrare il nostro poeta Gabriele D'Annunzio nel giorno della sua nascita, il 12 di marzo. È un evento itinerante, è un festival di poesie e arti performative che mira a riscoprire la figura del poeta rileggendola attraverso i linguaggi della contemporaneità, della poesia e delle arti visive e facendo anche riscoprire i luoghi della sua infanzia. Dal museo a casa natale D'Annunzio infatti durante tutta la notte ci muoveremo lungo Corso Mantone dove ci aspetteranno delle azioni performative e della musica proveniente dai balconi e riapriremo alcune case storiche della via, delle abitazioni borghesi proprio con l'obiettivo di portare D'Annunzio fuori dal museo o almeno poco fuori dal museo, come se fossimo anche noi dei pastori che vanno verso il mare quindi che da casa D'Annunzio ci muoviamo verso Piazza Unione, capitanati da una barca che un po' richiama invece la sua seconda casa e vi aspettiamo dalle 17 fino a mezzanotte del 12 marzo. L'evento poi continuerà anche il 13 con degli appuntamenti solo dentro casa D'Annunzio.